Da sabato scorso la Diocesi di Bologna ha tre nuovi sacerdoti ordinati dal Cardinal Caffarra in cattedrale insieme ad un religioso cappuccino. Si tratta di Don Paolo Giordani, 29 anni, originario della parrocchia di San Giovanni Battista e Gemma Galgani di Casteldevole. Ha conseguito la laurea in Ingegneria Ambientale nel corso dell'anno propedeutico in seminario. Ha svolto il servizio pastorale a Castel San Pietro Terme e a Pieve di Cento ed è stato prefetto della propedeutica. Don Matteo Monterumisi, ha 26 anni ed è originario di San Paolo di Ravone. È entrato in seminario dopo gli studi all'Istituto Alberghiero. Ha svolto il servizio pastorale a Samamante di Medicina e per un anno è stato l'incaricato del seminario per l'animazione vocazionale in diocesi. Il terzo sacerdote è Don Fabrizio Peli, di 34 anni, originario di Mercatale. Ha conseguito il diploma all'Istituto Alberghiero e prima di entrare in seminario ha svolto il lavoro di rappresentante. Ha svolto il servizio pastorale a Pianoro Nuovo, Chiesa Nuova, Medicina e San Severino. Ha anche seguito la pastorale degli ammalati al Sant'Orsola Malpighi. Fra Claudio Muratore, 40 anni, originario di Cesena. È entrato nei frati Capuccini all'età di 20 anni, al termine del Cammino Scout in parrocchia. È stato nei conventi di Faenza, Parma e Vignola, dove ha fondato il centro di spiritualità Casa Leone. A Bologna è arrivato agli inizi di settembre. Dopo l'ordinazione rimarrà nel convento di San Giuseppe di Via Bellinzona, dove seguirà la pastorale giovanile della parrocchia. Nell'omelia il cardinale, rivolgendosi direttamente agli ordinandi, ha detto «La conformazione della vostra persona a Cristo, operata dal sacramento dell'ordine, chiede di plasmare tutta la vostra vita, il vostro cuore casto e la vostra libertà obbediente. Nel vostro sacerdozio incontrerete una vicenda umana desertificata dall'assenza di Dio, un uomo che ha voluto vivere senza Dio, ritenendolo suo avversario. E' questa la vera tragedia in cui il vostro sacerdozio sarà coinvolto, un uomo che non avendo incontrato il vero volto di Dio, lo ha rifiutato. Voi sarete in questo deserto di senso, ha concluso, coloro che diranno la parola vera su Dio, coloro che daranno nei sacramenti all'uomo la possibilità di sperimentare che Dio è grazia e misericordia. Per voi vivere è Cristo, poiché l'unica vostra ragione d'essere è di rendere visibile la bontà e la grazia di Dio. Grazie.